Un'ottima notizia è l'arresto del rapinatore seriale che nei mesi scorsi ha creato scompiglio e problemi in città. Il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, saluta con gioia la notizia dell'arresto del rapinatore seriale che, tra ottobre e dicembre, ha messo a segno con un complice una serie di colpi a Vicenza. Feroci, sfacciati, arroganti, strafottenti, si accanivano sulle prede più deboli. In Viale Retegno una ragazza era stata bloccata mentre tornava a casa. Lei aveva ripercorso quegli attimi terribili tra le lacrime. Mi ha strattonato facendomi gettare la borsa per terra e in quel momento ho urlato fortissimo. I malviventi utilizzavano anche un coltello, come ci aveva raccontato la vittima. Dopo, quando sono arrivata nell'ambulanza, hanno guardato il mio cappotto e c'era un buco, come se un oggetto appuntito avesse tolto, avesse pugnalato. E ho guardato la mia schiena e c'era un livido. Da allora è partita la caccia ai responsabili. Le indagini della Questura, con la collaborazione dei carabinieri del Norma, hanno portato gli investigatori a chiedere e a ottenere dalla Procura una misura cautelare nei confronti di un senza tetto gambiano di 25 anni, già rinchiuso nel carcere San Pio X dopo una rapina commessa al centro commerciale Palladio, dove aveva pure aggredito due agenti della polizia nel corso di un controllo. Risulta invece ricercato un suo connazionale che, assieme a lui, sarebbe responsabile di almeno due degli episodi contestati dalle forze dell'ordine messi a segno nei mesi scorsi, tra cui una rapina ai danni di un'anziana che dopo essere uscita dal pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo era stata derubata dalla borsetta sotto la minaccia di un coltello. Un rapinatore che si è reso protagonista di 7-8 rapine che grazie agli inquirenti vicentini è stato assicurato alla giustizia e tratto in arresto. Bisogna aver fiducia nelle forze dell'ordine e nel loro operato.